piccoli coni vedi e qua deve magari anche puoi entrare anche qui vedi in realtà tu sai che adesso prenderai da fuori tu sei concentrato tutto qui per passare vedi non ti spingo non ti permette di passare in realtà tu già stai attaccando la mia gamba e vai subito prima di andare devi coprire subito prima di andare devo coprire subito e questo non può meglio danni attacchi bene subito no, sbagliato perché la mia gamba è finata difficile non che posso fare subito per me è difficile basta che nascondi qui qui questa può uscire un po' fuori fuori no 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 qui qui di me infatti mi è interessato ma sta qui mi provo a liberare funziona anche così sono incastrato è meglio forse si è meglio è più sicuro mi controlli mi controlli esatto questo basta che si usi bene aspetta stai lavorando con polpaccio e con polpaccio no 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 prima senti il polpaccio no 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 polpaccio non mi da diciamo desiderio di fare così io sento dolore ancora penso di uscire c'è un dolore che non puoi sopportare si vede questo deve essere diventito molto più molto più come croce verso le mie ciglia così deve essere vedi adesso tu fai così guarda guarda ma devi fare così oh ho capito ho capito ho capito gomito fuori gomito fuori oh è dentro però vedi oh si triggi i taloni hai capito questo è fatto qui tipo qui qua basta stringere un pochettino premiare un po' si per girare vedi io riesco io voglio voglio essere in una posizione ma forse va meglio così vedi che oh basta ma basta perché questo ti gira il gomito sto dritto tu puoi fare anche di qua e stringi bene qua controlli però tu hai più possibilità no no di qua spingi di qua controlli e premi bene oh dai oh oppure bella con piede così anche se vai in tuo colo anche se vai in tuo colo anche se vai in tuo colo si vai in tuo colo ah si subito basta se vai in tuo colo basta portare a terra lui cadde io posso portarti a terra così faccio faccio guarda tu ti escivi di qua faccio hai preso o no faccio qui e qua sto ci sono già come voglio fare si basta c'era cambia biomechanica oh 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 da si siede vedi la posso fare anche in volo io apena si lui ancora tu puoi fare anche in piedi tu puoi fare anche in volo si siede si siede si siede basta si siede ma che vede important è difficile questo fare però e ci sono anche vieni vieni ancora ci sono anche proibiti che posso fare qui e poi tirarti ah ho capito è peschino no si vedi in samba questa cosa è proibita non che sento male si la faccio però sento come esiste qua tiena e c'è uno che ha fatto due gambe è pacato pacato stai tiena è importante di prendere tante cavile e speciali di noi come? a ridit deve essere molto morbida come è un gatto si si è presa si le lo studi ce vuoi a poco si è va ho ho